PCD presents a Pirates of Zanzibar Allora ragazzi bentornati su Mostro Giganto episodio numero 3 Andiamo a sentire? No in realtà è qua No è il 3 perché L'episodio pilota conta come episodio 0 stavolta visto che non avevamo fatto progressi Nell'episodio 0 Andiamo a giocare però stavolta il gioco non l'abbiamo finito con Ai Ai Però attenzione Perché adesso vorrei provare un altro combattente Vorrei provare un altro combattente Ok Stavolta prendiamo Gorgo o Giorgio Vediamo un po' Dopo Mojo Prendiamo Giorgio Allora Giorgio praticamente è una specie di Godzilla Vedete Facciamo Giorgio contro Gorgo Vai vai Voi dite ma allora perché non vuoi Non vuoi finire il gioco con Con Ai 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 Si lo finiamo già con Ai Ai però alla fine di questa puntata Adesso Visto che ci mancava solo di fare il boss finale Non posso certo iniziare la puntata col boss finale Oh sei ricoglionito Poi vi direte si ma la storia di Giorgio la vedremo non vi preoccupate la vedremo a breve Sono quasi morto Nooo mi ha sconocchiato Abbiamo perso malissimo Eh Giorgio ho vinto Mannaggia lui Ok secondo me Eh devo ancora imparare come si usa Giorgio eh Non so capace Tipo sta mossa qua La fai sull'occhio dell'avversario Invece Giorgio la faceva sul grugno Cioè Ai Ai la faceva sul grugno Oh vai vai capocciata Vai capocciata Si lo sconocchiato uno pari Ok abbiamo sconocchiato Final round Fight Oh non riesco a beccarlo eh Sii Che artigliata che gli ho dato mamma mia Ok il primo round l'abbiamo fatto Round one Fight Oh contro il mio doppio Giorgio contro Giorgio Regà Qua sono dolori No no la lingua dei fuori Mi sono rincoglionito Aiuto aiuto Ripariamoci Vai Due capocciate Oh non riesco Ma qua si è ammazzato Si Si lo sconocchiato Grande 1-0 Grande Ok Secondo round All right non riesco più a beccarlo eh siiii aia siiii sconocchiato grande abbiamo vinto anche contro il nostro doppione jojo ok 3 contro ai ai e mi sa che ai ai come dice il nome ci farà tanta boa ho fatto suppercut bomba oh più grande l'abbiamo vinto oh flawless victory abbiamo fatto praticamente il perfect oh l'ho quasi distrutto già eh raga stiamo andando a cannone l'ho sfornato l'ho sfornato la grande raga grande pure stavolta flawless victory grande ragazzi allora ragazzi siamo contro mojo jojo contro mojo aia allora ragazzi mettiamo un attimo pausa perchè qua devo fare un attimo una cosa aspettate un secondo eh aia aiuto aiuto aspetta un attimo devo fare una cosa aspetta pausa ok rieccoci scusate ho dovuto fare una cosa si è perso eh però mi sta gonfiando jojo eh mi sta gonfiando mi sta gonfiando ah ecco mi ha sconocchiato mortaggi mojo vinto ma oggi ho vinto vabbè secondo round questo è il livello 4 mi pare no nooo mi sono affaticato aiuto liberati aia nooo ma una capocciata enorme mi ha dato game over raga ma ha sfondato vabbè ho sconfitto ho sconfitto tre mostri con jojo allora ma non temete perchè adesso torniamo da torniamo dal nostro ai ai e vediamo se riusciamo a battere il boss finale ricordate eravamo rimasti al boss finale con ai ai e il boss finale era una cosa che non ci aspettavamo a sorpresa proprio è tipo se non ricordo male un attore degli anni 30 40 ok l'avevo nominato ah free bogart e dobbiamo battere lui per vincere ma è difficilissimo che devi trovare la distanza giusta lui ha le distanze diverse dagli altri nemici ahia no mi sono incoglionito oh l'ho sconocchiato ragazzi grande ahia no mi sono incoglionito ahia no mi sono incoglionito primo round fatto round 2 crociamo le dita speriamo che riesca a batterlo ahia ma porca vacca oh non riesco più a batterlo ma ha sfondato raga ma ha sfondato un free bogart ha vinto allora finale usamo uno pari eh da una capocciata gli ho dato sii l'ho sfondato fin- sentite che verso che ha fatto ho vinto il gioco raga abbiamo abbiamo finito il gioco vediamola in sequence di di ahiai se c'è round 1 no ma perché ricomincia da da gorgo io pensavo che era finito il gioco dobbiamo fare il terzo giro mo quindi c'è un terzo giro non ci posso credere come cacchio faccio a finito il gioco ma ha sfondato ma ha sfondato ma ha sfondato raga porca vacca ora ora non riesce che non riesce che non riesce che pesante ma 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 ora no riesce che pesante installo? No! Ma ha distrutto, ma ha distrutto, ragazzi. Game over, game over. Mannaggia la miseria. Game over. Che tristezza. Ho sconfitto noi mostri. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ah, mi fa mettere il nome. Ok. Tutti bloccati. Solo AII è disponibile. Qui sono le istruzioni. Chiudiamo la rivincita a Gorgo. Vai. Round 2. Vai. Qua siamo già sotto di uno, perché avevo salvato in un momento poco opportuno. Sì, l'ho sconocchiato. Ok. Terzo e ultimo round. Final round. Fight! Oh, io so fare i bozzi, eh. No, no! Sono incoglionito! Ho dato troppi cazzotti in poco tempo. Ah! C'ho zero energia, regà. Sì, l'ho sfornato per un pelo, eh. Ce l'ho fatta. Grande. Ok. Prossimo avversario. E ora mi devo rifare tutti gli avversari, mi sembra. Round 1. Fight! Sono contro JoJo. Cioè, a dire che JoJo non è il JoJo di... ATP e JoJo, eh. È un altro JoJo questo. Tanto, eh. È quasi sconocchiato, regà. Ah! Sì, ce l'ho fatta. Ok. Non riusciremo mai a finire questo gioco. Vai! Quanti giri devi fare per finire il gioco? No, tre giri, forse. Questo è il terzo e ultimo giro. Ok. Abbiamo sfornato. Aiai contro Aiai. Aiai contro Aiai. Aiai contro Aiai. Aiai contro 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 A 1, 2, 1 Ah ma che c***o, ma gonfiato il bot regà No, 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 non mi sconocchiare, non mi sconocchiare, no Sì, sono riuscito, grande, per un pelo regà Mamma mia, ma quasi sconfitto Ok Siamo contro un moggio Fino a noi abbiamo ucciso 12 mostri, eh, abbiamo sconfitto 12 mostri Ok, sono sempre quelli che fanno il giro, però sono 12 round vinti Nooo, sono incoglionito Mi ha sfannato Mi ha spaccato, regà Mojo mi ha spaccato Round 2 Vai Eh, mi sto affaticando troppo Eh, sto andando malissimo Ahia Eh, ma ha sfannato Niente, abbiamo perso contro un moggio E... La puntata finisce qui, ragazzi Anche se... Abbiamo fatto altri progressi Nel frattempo Abbiamo fatto altri progressi Ma anche con Giorgio Perché in realtà Ho salvato che eravamo arrivati al quarto Per questo ho detto Adesso devo fare una cosa Ricordate, prima di un combattere contro... Contro un moggio Perché stavo salvando la posizione in un altro slot Quindi ho dovuto fare un maggeggio Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto Prossima puntata Proviamo a finire finalmente il gioco con Ai Ai E vediamo se si sblocca un'altra storia da vedere E magari se riusciamo a progredire anche con l'altro personaggio Giorgio Per questa volta è tutto Ciao ragazzi Alla prossima